La 6 La 6, la radio che fa la differenza Siamo con Piero Fazzino, sindaco di Torino e siamo alla presentazione del Festival di Torino la prima volta che un sindaco è presente Beh, perché il cinema per la città e la storia della città è molto importante il cinema italiano è nato a Torino Torino ha un grande museo del cinema che è riconosciuto internazionalmente oltre che come una grande istituzione nazionale il Torino Film Festival è cresciuto via via come uno degli eventi culturali più importanti della città nato in sordina, dedicato principalmente ai giovani e ai giovani registi è cresciuto come peso, ruolo, forza, autorevolezza e oggi è una delle grandi rassegne cinematografiche internazionali e sempre con questa caratterizzazione dei giovani registi che si misurano con questa bellissima sfida che fa il cinema e poi perché Torino è diventata una grande capitale di cultura Torino è una città che si è trasformata moltissimo e una delle leve fondamentali della sua trasformazione dell'essere passata da una città industriale classica a una città molto plurale nelle vocazioni è stato un grande investimento nella cultura oggi Torino è forse la città italiana che mette in campo la maggiore offerta culturale a disposizione dei suoi cittadini e di chi viene a visitarla e quindi per noi è molto importante segnalare, sottolineare che Torino è una capitale di cultura vuole esserlo e l'amministrazione comunale lavora per questo Grazie mille e a questo punto buon festival Buon festival, io penso che sarà un bellissimo festival con grande successo e la città lo vivrà come un evento importante della vita di Torino